Ok, allora iniziamo con il primo argomento del corso che è quello abilitante per poterci fare, permetterci di fare gli esercizi. Impariamo quattro cose fondamentali in questo tempo che ci rimane questa mattina per permettervi di costruire dei progettini che abbiano un'interfaccia grafica e possono fare cose semplici usando una libreria che si chiama JavaFX, la libreria Java per costruire interfacce grafiche, in Java ci sono tante librerie per costruire interfacce grafiche, la maggior parte sono abbastanza complesse da usare, questa JavaFX tutto sommato è molto semplice da usare per i nostri scopi, per il tipo di applicazioni che ci servono, non richiede di scrivere tanto codice per fortuna e quindi l'abbiamo scelta come tipo di ambiente in cui costruire queste interfacce grafiche. Alla fine andremo a costruire, non è colpa mia se siete gestionali, delle applicazioni del gestionale, quindi che hanno dei form, dei campi, delle tendine, dei bottoni, dei numeri o dei grafici eventualmente o delle tabelle e quindi questa libreria ci permetterà di costruire, questo è un esempio di un'interfaccia presa da uno dei temi d'esame del 2017, era un tema d'esame che avevamo dato, lo screenshot della soluzione di quel tema d'esame. questo è il tipo di programmi che andremo a fare, ovviamente ve la potete immaginare facilmente cosa fanno con le tendine, cosa fanno con i bottoni, il fatto che qua sotto ci sarà poi l'esultato stampato e cose di questo genere. Allora, come ragioniamo, o meglio, come ragioniamo nella libreria JavaFX per costruire un'interfaccia di questo genere. Allora, ciò che faremo è scoprire che i vari elementi di questa interfaccia in realtà corrispondono a degli oggetti Java e questi oggetti Java vengono creati e popolati, gli si danno delle proprietà, dei valori che poi determinano il loro comportamento sullo schermo e la libreria grafica quello che farà è dare vita a questi oggetti Java, nel senso che quando metto un oggetto che è un bottone, fare in modo che il bottone sia cliccabile e fare in modo di poter decidere che cosa succede quando clicco quel bottone. Adesso dovremo imparare un po' di terminologia per capire come la libreria JavaFX chiama i vari tipi di oggetti, i vari tipi di elementi che possono esserci sull'interfaccia utente. E ci sono tre concetti principali, i primi due li dobbiamo capire ma poi non useremo, il terzo invece sarà il pane quotidiano. Allora, l'interfaccia grafica secondo JavaFX è questa qui, l'applicazione è quella delimitata dalla riga tratteggiata verde, che contiene i bottoni, contiene il titolo, contiene le tendine eccetera eccetera, contiene il testo. Però quando voi lanciate un programma, questo programma parte dentro una finestra del vostro sistema operativo, che sia di Windows, che sia del Mac, che sia di Linux, che questa finestra è rappresentata da questa riga tratteggiata blu. Quindi io apro la finestra, non posso avere un'applicazione, un bottone così nudo nella pagina, deve essere sempre dentro uno schermo, deve essere sempre dentro una finestra. Allora, nella terminologia di JavaFX la finestra del sistema operativo si chiama stage, invece l'applicazione vera e propria, che ho sviluppato io, si chiama scene, scena. È un po' una terminologia, diciamo, teatrale, no? Cioè, ho il palco, lo stage, su cui va in scena qualcosa. Lo stage è il contenitore, neutro. Il sistema operativo mi dà una finestra, mi dice, senti, quanto la vuoi grande? 600 per 400. Ok, ti do la finestra, facci cosa vuoi dentro. Cosa vuoi, cos'è? È una scena che pubblico, diciamo così, mando in onda su quel palco, su quello stage. Di fatto ogni programma inizierà con 3-4 istruzioni che saranno sempre le stesse per creare lo stage e per creare una scena da mettere dentro lo stage. Io potrei creare una scena, ma se non la mettessi dentro lo stage questa scena non la puoi vedere. È un po' come farlo dietro le quinte, prepari i personaggi, prepari tutto, ma finché non lo metti sul palco, finché non colleghi la scena allo stage, non si vede nulla, no? La finestra rimane buona. Quindi ogni programma avrà queste 2-3 istruzioni che saranno sempre le stesse per inizializzare la scena, inizializzare lo stage e creare la prima scena e mettere la scena in onda su quello stage. E vabbè, sarà un template di istruzioni che sono sempre uguali. Poi questa scena ovviamente ha bisogno di personaggi che recitano, di elementi da mettere dentro. Tutti gli altri elementi che fanno parte della scena, che compongono la scena, sono oggetti Java che chiamiamo nodi, che JavaFX chiama nodo. Ci sono nodi di vario tipo, ad esempio qua ne ho evidenziati due, questa è una tendina, che è un tipo di nodo, questo è un bottone che è un tipo di nodo, ma anche questa parolina stagione, un'etichetta che è un tipo di nodo, il titolo è un altro tipo di nodo, questo blocco di testo qua sotto, textarea si chiama, è un altro tipo di nodo. Quindi tutti gli elementi delle interfacce grafiche ci sono alcuni nodi visibili e alcuni nodi invisibili. Ogni tipo di nodo che ci mette a disposizione la libreria ha un comportamento predefinito dalla libreria stessa. Quindi se ci mettono nella scena un bottone, quel bottone sa di essere un bottone e sa come si deve comportare un bottone. Non è solo un'immagine disegnata a forma di bottone, ma un'immagine è un comportamento associato al suo essere bottone che è diverso dal comportamento associato all'essere tendina o all'essere etichetta, l'essere etichetta non fa niente. Si fa vedere, scritta, ma non ci posso interagire. Se ci vado sopra col mouse, con la tastiera, ci clicco sopra, mi ignora. Il nostro lavoro nel costruire l'interfaccia grafica sarà di comporre la scena pubblicando sulla scena i nodi che mi servono e dando anche a questi nodi l'istruzione di come impaginarsi in qualche modo. Cioè il fatto che ad esempio questi qua, queste prime due righe, siano uno sotto l'altro incolonato in modo ordinato e quest'altro blocco di testo invece occupi in tutto lo spazio rimanente. Allora ci sono dei nodi che servono per impaginare altri nodi, per cui l'ultima frase di questa slide dice che i nodi possono essere annidati giornalisticamente uno dentro l'altro. Qui ci sono dei nodi che corrispondono a delle elementi interattivi della pagina, della scena e dei nodi che sono essi stessi invisibili ma servono per posizionare gli altri nodi. Secondo delle regole. Il bello delle librerie AzureFX rispetto ad altre librerie è che non mi chiede mai, se non lo voglio fare apposta diciamo così, ma altrimenti non mi chiede mai di ragionare in pixel. Cioè in alcune librerie dovrei dire che questo bottone crea partite a 32,5 pixel dal bordo destro della figura, della finestra. E diventa un casino perché poi questa finestra si allarga e si restringe eccetera, questa impaginazione e queste minure le devi calcolare ogni volta. Mentre invece con JavaFX diciamo semplicemente guarda qui c'è questi 6 elementi, mettimili in una griglia 3x2. Poi se la finestra si allarga e si restringe, questa griglia a sua volta si allargerà e si restringerà e gli elementi si spostano di conseguenza da soli. Quindi non sto dicendo dove vanno gli elementi. Sto incastrando gli elementi all'interno dei nodi e questi nodi hanno dentro di loro un algoritmo che decide come posizionare i propri nodi, diciamo così, figli contenuti quando capitano cose tipo il denunzionamento della finestra e così via. Poi ci arriviamo in pratica. Allora ad esempio questa videata a sinistra è rappresentata con una gerarchia di nodi che io ho illustrato nella finestra di destra, che poi è in realtà la stessa interfaccia che useremo per costruire questa interfaccia. Ad esempio qui c'era questa tendina con la stagione da selezionare e questa tendina corrisponde a un nodo che si chiama choice box. Choice box è il tipo di nodo per creare una tendina di scena. In realtà ce ne sono due choice box e combo box nella libreria JavaFX. Mentre invece quest'altro elemento qui è un bottone, è rappresentato da questo nodo che si chiama button, senza grosse sorprese. questo è il tipo di classe JavaFX.control.button. Poi di button ne ho due, ma sono bottoni diversi, chiaramente sono due istanze della stessa classe bottone, ciascuna ha delle proprietà diverse, tra le quali c'è il nome. Che questo sia carica partita e questo si chiama domino è perché sono due istanze della classe button, ma con delle proprietà diverse, una delle proprietà sarà il testo che è contenuto nel bottone stesso. Quindi io lo vedo come un oggetto, quando costruisco quell'oggetto gli do delle proprietà, poi avrò dei metodi set, dei metodi get per andare a leggere e scrivere le proprietà. Tutte le volte che io vado a leggere o scrivere una proprietà di un oggetto della scena, automaticamente la libreria JavaFX va ad aggiornare la parte visuale della scena stessa. Quindi io ho un albero che è un albero di annidamento, adesso poi vi lo commento un attimo, ho degli oggetti che hanno delle proprietà, quindi sono normalissimi oggetti Java, hanno dei set e dei get per farci cose. Ogni volta che tocco un oggetto Java o lo leggo, lui va in tempo reale ad aggiornare di qua. E quando io, quando l'utente modifica il valore della tendina, io con un metodo get riesco a scoprire qual è il valore che l'utente ha selezionato. Quindi tutta la gestione dell'interfaccia grafica viene fatta in automatico dalla libreria, io devo solo preoccuparmi delle proprietà, gli attributi degli oggetti interattivi. E in questa scena gli oggetti interattivi sono tre. La tendina sopra, la tendina sotto e questa area di testo. I bottoni non sono veri e propri oggetti interattivi, quindi non si deve fare nulla, non devo modificare nulla, però creano eventi. Cioè quando il bottone viene premuto il programma deve fare qualcosa. Allora, a corrente di un bottone io dovrò specificare un metodo da chiamare, dico guarda, quando l'utente preme quel bottone chiamo questo metodo nel mio codice. Nel mio codice farò le cose che devo fare perché so che l'utente ha premuto. È un modo di ragionare diverso da quello che siamo abituati nella programmazione procedurale in cui inizio, faccio cose prima, seconda, terza istruzione. L'ordine, qui io deciderò cosa devo fare, ma l'ordine con cui viene fatto lo decide l'utente, perché è l'utente che decide se lui apre prima questa vendina o quella dopo, oppure clicca su quel bottone, oppure no. Quindi io devo predisporre ciò che il programma farà in risposta alle azioni dell'utente. Quindi in un modo molto più atomico, molto più elementare. Dicevo, questi nodi sono posizionati in modo gerarchico, vedete che c'è un primo nodo esterno che in realtà occupa tutta la scena che si chiama border pane. Border pane è un contenitore, è un nodo invisibile, non lo vedo qua perché è invisibile, ma lui è pensato per contenere cinque figli. Questi cinque figli sono il centro, l'alto, il basso, il sinistro, il destra. Quindi ti serve a impostare, separare quello che è magari il titolo dalla barra di stato sotto, dal menu laterale, dal contenuto del proprio. In questo esempio di questi cinque figli noi abbiamo riempito il top, vedete che qua sono rientrati questi, cinque figli, border pane è un nodo che ha cinque slot vuoti in cui possono essere riempiti, che si chiama top, left, center, right and bottom. Right è vuoto, bottom è vuoto, non ci ho messo niente, left è vuoto, ho popolato il top e il center. Nel top ci ho messo questo titolo. Questo titolo che cos'è? A sua volta è un nodo di tipo label, quindi label è un tipo di nodo, è un'etichetta, è un'etichetta semplicemente scritta un pochino più grossa e la facciamo funzionare come titolo. Invece nel centro, quindi questa parte, questo titolo qua sarà sempre sopra il resto, poi c'è il centro che è tutto il resto qua dentro, che a sua volta contiene un contenitore che si chiama Vbox, poi li vediamo in calma, vertical box. Il contenitore Vbox può avere tanti figli dentro e li mette tutti uno sopra l'altro, come scatole impilate una sull'altra. E quindi visto che Vbox ha due figli, che sono questo che si chiama grid pane e l'altro che si chiama text area, stiamo dicendo che nel centro dell'interfaccia c'è un impilamento verticale di oggetti di cui il primo è questo grid pane e il secondo è questa text area. Cioè la griglia che contiene i bottoni sta sopra all'area di testo. Stiamo dando queste regole, stiamo descrivendo, quindi Vbox contiene due cose, grid pane e text area. Text area è un nodo semplice che contiene un anno di testo in cui poi la posso impostare con i suoi attributi, può essere un anno di testo in cui l'utente può scrivere, in cui il programma può scrivere, tutte e due possono scrivere, dipende dagli attributi, c'è un grid only che permette di decidere chi lo può modificare. Grid pane invece è un altro nodo contenitore, di nuovo invisibile, non disegna una griglia con le righe visibili, ma gestisce uno spazio a forma di griglia, di elementi allineati. In questo caso questa griglia è di 3x2, 3 colonne per 2 righe e che contiene quindi 6 elementi che sono questi 6, 2 sono label, 2 sono choice box, cioè le tendine, 2 sono button, cioè i bottoni. E poi ciascun elemento solo quando è inserito in un grid pane avrà le coordinate della casella in cui viene ficcato. Tutto questo lo faremo con un programma che si chiama appunto SimBuilder che in modo interattivo drag and drop ci permette di costruire queste cose. Quindi sarà molto semplice costruire un'interfaccia di questo genere qua, diciamo vuota, senza i dati, solamente con gli elementi interattivi che ci servono. Poi dovremo andare a popolarli, perché ad esempio questa squadra, il fatto che c'è una tendina con le squadre di calcio e una squadra si chiama Lazio e l'altra si chiama Milan, l'interfaccia grafica non è che lo sappia. Ci sarà quell'oggetto, questa choice box qua sotto della squadra di calcio a cui dovremmo dire quali sono i valori che deve mostrare. Questi valori di 99 su 100 li andremo a prendere nel database. Quindi anche dinamicamente i valori contenuti in una tendina sono una proprietà dell'oggetto choice box. Il caravano è una proprietà che si chiama items e quindi ci saranno mettere set items per impostare gli items che contiene. Quindi impareremo bastante facilmente a fare questo tipo di costruzione. Ci sono dei nodi le cui proprietà, tipo questo bottone si chiama domino, finisce lì. E quindi il nome lo posso dare direttamente io a mano quando costruisco un'interfaccia grafica. Ci sono altri elementi in cui il contenuto, il cui testo invece lo scopro solo quando il programma parte. E allora quando il programma parte lo andrà a riempire semplicemente dando i valori opportuni a una proprietà di quell'oggetto. Questa è un pochino della filosofia. Tutto fatto con i nodi. Questa qua è una famiglia delle classi, non tutte, di tipo nodo. Vedete che a un certo punto c'è una qua. Nod, sulla sinistra, è una classe astratta, non posso istanziare un oggetto di tipo nodo, è una classe astratta che ha tante sottoclassi. Questo è l'albero di gerarchia delle sottoclassi. Sono tutte classi che estendono nodo e sono organizzate, ad esempio tra queste sottoclassi c'è una classe che si chiama pane, pannello, che contiene tutti quelli che avevo chiamato prima nodi invisibili che servono per impaginare gli altri nodi. Qua troviamo il border pane di prima, troviamo il v-box di prima, troviamo il grid pane di prima. Ci sono questi otto modi, questi otto tipi di nodi che mi permettono di impaginare gli nodi successivi, che si possono incastrare in tutti i modi possibili, quindi posso avere un h-box dentro di pane, dentro di uno stack, quello che volete. E poi ci sono invece un'altra grossa famiglia che è figlia di control, che sono tutti i controlli dell'interfaccia utente vera e propria, dove abbiamo text field, un campo di testo, text area, un'area di testo, sono la stessa cosa ma una grande e l'altra piccola, uno occupa una riga, l'altro occupa invece uno spazio verticale, abbiamo la choice box o la combo box che in realtà è quella che usiamo più frequentemente perché è più bella, abbiamo la label da qualche parte, anche qui, l'etichetta, cosa possiamo avere? Possiamo avere i bottoni, possiamo da qualche parte ci sono e poco altro essenzialmente. Poi ci sono altri elementi per fare i disegni delle figure, ma insomma, alla fine di tutta questa famiglia ci interessano 5-6 tipi di nodi con cui impareremo a lavorare. I bottoni sono qua, c'è il check box, c'è il bottone che premono, c'è il check box, c'è il bottone, la cartolina di spunta, no? Di tutti questi nodi cosa abbiamo? Abbiamo la documentazione ufficiale che è su questo sito, qui in realtà purtroppo da Java 11 in avanti è diventato tutto più complicato perché non basta conoscere il package, ma deve anche conoscere il modulo che contiene, però dentro controls abbiamo ad esempio il package control, dove bla 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 spiega un po' di cose e poi c'è l'elenco di tutte le nodi. Quindi ad esempio il nostro button di cui parlavamo prima è questa classe button, vedete che come l'ereditarietà ha una lunga strada da fare ma è sempre figlio di nod e quindi ha tutte le proprietà che ha nod più tutte le proprietà che hanno i nodi successivi e qui abbiamo tutto l'elenco delle proprietà che possiamo, ce ne sono, non le useremo tutte ovviamente, tutte le proprietà che potremo usare leggendo e scrivendo per modificando, che ne so, l'altezza del bottone, la voglio fare più alto, più basso, lui ha già un'altezza sua nativa ma se la voglio modificare la posso fare ad esempio, oppure il testo che è scritto da qualche parte, ecco qua text, quindi faccio set text e cambio la scritta che c'è sul bottone, volendo, oppure ho dei metodi come ad esempio on, on submit dove è scritto, no perché non c'è su tutti, c'è solo sul bottone, on action, eccolo qua, c'è una proprietà on action che dice qual è l'azione da compiere quando il bottone viene premuto, quindi qua ho tutta la documentazione e poi mi spiega i metodi, le proprietà, la maggior parte sono proprietà ereditate da node, vedete node quanta roba ha, la maggior parte di queste cose non ci servono, però se lo voglio fare trasparente, se lo voglio fare invisibile, se lo voglio spostarsi insomma, e qui c'è la documentazione ufficiale di JavaFX, poi c'è un tizio che si è preso con tanta pazienza e ha tradotto la documentazione ufficiale sotto forma di una serie di diagrammi che sono anche comodi da, ad esempio questa volta possiamo guardare il layout, i vari pannelli, la stessa documentazione semplicemente messa in forma un pochino più grafica da consultare, dove c'è, guardiamo la Vbox, se ci clicco sopra mi dà questa che è esattamente la documentazione ufficiale, ma in più, sinteticamente vedo già quali sono i metodi principali, ci vado sopra e li posso vedere, questi sono i due siti in cui andare a guardare se abbiamo un dubbio su un significato di una proprietà o il comportamento di un nodo, poi molte di queste informazioni in realtà già in Eclipse man mano che scriviamo ci viene fuori la finestrella con la documentazione, l'autocompletamento, quindi di sicuro non ci andiamo a imparare a memoria questa roba qua. Ecco, e questi nodi come vengono messi insieme? Un'applicazione JavaFX deve partire in un certo modo, poi lo facciamo insieme in pratica, però un'applicazione JavaFX definisce una classe, qua è chiamata main, che estende la classe application, application è javafx.application. quindi il nostro programma non è un programma assistante, ma è una sottoclasse di una classe già esistente. Questa classe application è, sa gestire un'applicazione grafica, quindi il 90% del lavoro lo fa, non lo facciamo noi, lo fa la mia superclasse, la classe application. La classe application sa come gestire le finestre del sistema operativo, sa come ridimensionare le finestre, sa come spostare gli elementi, sa dove posizionare i nodi, eccetera, eccetera. Sa che quando passo col mouse su un bottone, questo bottone deve un attimo agitarsi, deve evidenziarsi in modo da far capire che è cliccabile, e sa che se lo clicco deve rientrare, eccetera, eccetera. Qui la classe application sa già fare tante cose da sola. Io estendo quella classe aggiungendo i comportamenti che sono specifici del mio problema che voglio risolvere. Questa classe application, quindi questa è la mia applicazione, infatti vedete che c'è un metodo, il metodo main è nudo, il mio programma main non fa nulla, semplicemente chiama il metodo launch della mia classe superiore, della class application. Quindi io dico, senti, application.launch, fai tu, inizializza tutto, lei fa col che deve fare e dopo un po' chiama un mio metodo che si chiama start. Quindi il mio vero main non è il metodo main, ma il metodo start. Ok? Quindi, in ordine, il programma parte, parte della mia classe main, va a chiamare, la posso chiamare come voglio ovviamente questa classe, che normalmente un programma Java parte dal metodo statico main. Il metodo statico main non fa nulla se non chiamare il launch della classe madre. La classe madre fa tutta una serie di cose, prepara la scena essenzialmente, lo stage essenzialmente, e poi chiama il metodo start passandogli già allo stage. Quindi la classe application parla col sistema operativo dicendo, senti, questo qua vuole fare un'interfaccia grafica, mi dai una finestra. Ok? Ti do la finestra. Fa cose sue e poi dice, va bene, adesso dice a me, riempimi sta finestra, chiama il metodo start, che devo scrivere io, e mi passa la finestra allo stage. Il palcoscenico, non solo la finestra, no? Lo stage. Vuoto, che non contiene nulla. E io questo qua lo devo riempire. Lo devo riempire, lo posso riempire in due modi. Uno che non useremo mai, creare i nodi ed aggiungerli. Quindi new, border pane, e poi faccio new button, new combo box, new text area, in Java. Creo questi oggetti e li metto dentro la scena. Scena.add, come fosse una lista. Aggiungo code. Questo è un modo in cui costruisco a codice, Java, i nodi e le posizioni. L'altro modo più semplice è quello di usare un programma interattivo, grafico, scene builder, per disegnare questi nodi, per disegnare quell'albero che avevamo visto prima, qua. Ci metto i nodi dentro, li posiziono, li metto le etichette, eccetera, eccetera. E poi da questo programma scene builder esporto un file con estensione fxml. fx da jrfx, xml dal formato con cui è salvato. Quindi lo scene builder salva un file fxml che corrisponde alla struttura della scena. E poi io dal mio programma mail, dal mio metodo start, avrò un metodo che si chiama, c'è una classe della libreria jrfx che si chiama fxml loader. Cosa fa questo fxml loader? Leggi il file fxml che io mi sono fatto interattivamente, graficamente, e fa lui la costruzione dei nodi. Cioè, questa nostra scena ci sono tanti nodi che non ho creato io, ha creato fxml loader sulla base delle istruzioni che ha trovato nel file fxml che io ho editato graficamente. e alla fine mi darà come risultato il nodo radice, vedete che se mi metterò load del loader qua, questa classe loader legge questo file e mi istituisce un nodo radice, cioè di fatto il nodo principale della scena, che metterò poi in scena. creo la scena e da più avanti c'è un set scene qua. Quindi metto sullo stage la scena che semplicemente è ottenuto dal nodo radice che ha caricato l'fxml loader del mio file fxml. Queste sono le istruzioni che vi ho detto sono sempre le stesse. Metto lo start, con l'fxml loader carico, mi dà il nodo radice, creo una nuova scena a partire da questo nodo radice e questa scena la metto sul primary stage. E poi show. La finestra finora è creata ma invisibile, la rendo visibile. Questo lo guardiamo dopo. Queste tre istruzioni in mezzo. Queste sono le istruzioni minime e infatti avremo poi una procedura guidata per creare questi programmi che ce l'hanno già dentro queste istruzioni, quindi dovremmo neanche scrivere da mano. Dice che sono sempre le stesse, vi abbiamo già creato un template in modo da poterle già venire. E poi il programma finisce. O meglio, il metodo start finisce. E voi mi dite ma sì, ma tutto il lavoro da fare dov'è? Cioè dov'è che leggo i dati? Che processo? È tutto dentro la classe controller che reagisce alle azioni dell'utente. Questo metodo start costruisce l'interfaccia utente. Poi ai vari oggetti dell'interfaccia utente dovrò associare delle operazioni, delle azioni che verranno poi richiamate nel momento opportuno. Io qua non le potrei richiamare perché devo prima aspettare che l'utente clicchi su qualcosa e non so neanche su che cosa funzionerà. Ok? Quindi questo è il nostro main è finito qua. Tutto il lavoro sarà invece nelle azioni associate ai vari elementi grafici, ai vari elementi della scena. E quindi impareremo a farlo dopo l'intervallo. I primi passi almeno. Quindi ci facciamo un quarto d'ora di pausa? Grazie. 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 Grazie.